Guarda questa cosa, guardala. Sai cos'è? Fa parte del merchandise ufficiale di Dune 2. Allora, mettiamoli in questo modo. È sempre esistito il merchandise dei film, dalle sorpresine del McDonald's, dai videogiochi, le magliette e i secchieri del popcorn. Il team marketing di Dune 2 si è riunito e ha detto Allora, qual è il personaggio più rappresentativo di tutto questo franchise? Quello che il pubblico ama. Ma certo, è il verme delle sabbie! E quindi eccoci qua. Sì, è un secchiello dei popcorn. È tutto vero, è tutto vero. Se hai pensato qualsiasi altra cosa che non sia secchiello del popcorn, che Dio abbia pietà della tua anima. Ho paura di dire, scrivi nei commenti cos'hai pensato vedendo questa cosa, ma ormai ci siamo qua, quindi fallo e basta, per favore. Questa cosa è disponibile solo nelle catene AMC in America e se l'obiettivo del team marketing era quello di far partire meme infiniti per far parlare di questo film, ci sono decisamente riusciti. Io sono Mauro Simonetti, seguimi su questo canale per sentirmi parlare di altre... Così.